In questo video vediamo la tecnica esecutiva di tre esercizi. Il primo è Barbell Squat. Posiziona il bilanciere con i pesi dietro la schiena, appena sopra le scapole e non sul collo. Apri i piedi alla larghezza del bacino con le punte leggermente rivolte verso l'esterno. Piega le gambe fino oltre i 90 gradi. Se quando scendi non riesci a mantenere i talloni a terra, puoi posizionare un piccolo rialzo sotto i talloni per facilitarti. Tieni la schiena dritta senza inarcare o incurvare troppo la zona lombare. Il secondo esercizio è Smith Machine. Ripeti lo stesso movimento come nel Barbell Squat, solo che questa volta la macchina ti aiuta a controllare il bilanciere. Il terzo esercizio è Leg Press. Sdraiati sulla macchina tenendo schiena e glutei ben aderenti allo schienale. Posiziona i piedi alla larghezza del bacino, sempre con le punte leggermente all'esterno. Piega le gambe verso il petto e poi distendile verso l'alto ma senza raddrizzare completamente il ginocchio. Piega le gambe verso il defendere il ca��고 specialmente è passato, sempre con le punte leggermente all'interno. Grazie a tutti